Ciao a tutti, sono Mino Simone e mi sono laureato in matematica all'insubre nel 2018. Ho partecipato al programma di scambio a doppio titolo fra il 2017 e il 2018, passando sei mesi in una cittadina nel centro della Svezia, Vecroa. È stata un'esperienza stupenda. La Svezia è vicinissima all'Italia, eppure è completamente diversa per stile di vita, ritmi di vita, ritmi di lavoro, clima, chiaramente, e ho avuto la possibilità di quindi vedere la differenza di approccio allo studio e alla matematica in particolare. Mentre noi in Italia siamo molto legati a quello che è lo studio teorico, in Svezia l'approccio è estremamente applicativo, e questa cosa poi nel mondo del lavoro aiuta tantissimo. Unire le due cose penso che crei una combinazione assolutamente vincente. Noi ultimo è stato bellissimo avere sei mesi di esperienza in quello che è un vero campus universitario, in mezzo al verde, in mezzo ad altri studenti che venivano da tutto il mondo. È stata un'esperienza che è veramente difficile riassumere in così poco tempo, ma vale la pena provarla.